Politica e ordine degli avvocati scendono in campo uniti contro la paventata chiusura della sezione staccata del TAR di Pescara. Il presidente della provincia Guerino Testa ha inviato con il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio una lettera al premier Matteo Renzi. Bisogna dire che c'è una mobilitazione abbastanza diffusa contro la chiusura del TAR di Pescara. Io e il mio collega Di Giuseppe Antonio abbiamo voluto coinvolgere i comuni delle due province, quindi parliamo oltre 150 comuni perché il TAR di Pescara insiste su tutta l'area metropolitana Pescara-Chieti. È un TAR storicamente virtuoso che non ha delle giacenze di lungo corso, peraltro la sua soppressione porterebbe con sé anche la soppressione della sezione staccata della commissione regionale tributaria, quindi sarebbe un ulteriore scippo per tutta questa area. E anche gli avvocati di Pescara sono sul piede di guerra. La prossima settimana ci sarà infatti l'astenzione totale dalle udienze. Ogni attività sarà sospesa dal 22 al 29 luglio. Ieri c'è stata un'assemblea degli iscritti che ha deliberato l'astenzione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni dal 22 al 29 di luglio, con i 10 giorni di preavviso che il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero prevede. E non vi sono ragioni né di efficienza né di economicità. Il TAR di Pescara ha ridotto l'arretrato del 64% e ha tempi di definizione del contenzioso di un anno, da una parte e dall'altra ha introiti per versamento del contributo unificato di gran lunga superiori alle spese per la gestione dell'ufficio. Quali sarebbero invece i danni che questa chiusura comporterebbe? Ma i danni sono per la cittadinanza essenzialmente, perché sarebbe ancora più difficile a dire il giudice amministrativo collocato in un territorio, in un posto lontano da quello di residenza. La sezione staccata del TAR di Pescara ha competenza per le province di Chieti e Pescara e quindi vi sono luoghi che distano quasi 200 km dalla sede futura del TAR.